A maggio, a Sara, anche insieme a Mila, a Rebecca e io, noi abbiamo partecipato ad un convegno per leader cristiani europei chiamato European Leadership Forum. C'erano seminari, dei network in cui potevi conoscere persone che servono nello stesso tipo di ministero e varie opportunità di crescere nella fede. Uno di questi era una libreria con libri cristiani a prezzi scontatissimi. Confesso di essermi entusiasmato quando ho visto quella marea di libri cristiani scontati di almeno un 60%. E confesso di aver provato un grande orgoglio quando ho visto che Rebecca è rimasta ancora più entusiasta di me nel vedere quella marea di libri cristiani scontati. Erano sembrava una bambina a Disneyland. Si è comprata dei libri per regalare a varie persone della nostra chiesa. Buono, eh? Posso confessare che sull'aereo di ritorno la sua valigia era pesantissima. L'ho provato, l'ho aiutata. Per non parlare della bibbiona che si è portata in mano perché non entrava nella valigia. Ho pensato questa ragazza in gamba. Sa quali sono le cose importanti nella vita, eh? Uno dei libri che ho comprato lì in quell'occasione, in quel convegno, è stato questo qua. Questo commentario sul profeta Isaia. E racchiude dei commentari e delle citazioni dei padri della chiesa dei primi secoli sul profeta Isaia. Includi commenti di teologi conosciuti come Agostino, Atanaso e Tertulliano, ma anche altri che io almeno non conoscevo e che hanno nomi suggestivi come Efem il Siro, Leandro di Siviglia e un altro che si chiama Isacco di Ninive. Non è interessante? Mi è sembrato di trovarmi in una stanza in cui parlo tra di loro riguardo brani che sono molto preziosi per noi. Quest'estate stiamo seguendo una serie chiamata Una vita da profeta. Io voglio dedicare il sermone di oggi al profeta Isaia. A Isaia. Ecco la tabella che Mila ha mostrato due domeniche fa. Isaia viste nell'ottavo secolo avanti Cristo. Ok? Otto secoli più o meno avanti Cristo. Con il regno del nord di Israele, dopo la divisione di Israele nel regno del nord di Israele, il regno del sud di Giuda, no? Dopo che il regno del nord era già stato conquistato dalla Siria, ma prima che il regno del sud di Giuda fosse conquistato dalla Babilonia e portato in grande parte in esilio in Babilonia. Isaia ha tanto da dire. È il profeta più stesso ascitato nel Nuovo Testamento. Non potrei parlarvi di tutto il libro a 61 capitoli, ma ho pensato di parlare di tre brani chiave che vengono poi citati nei Vangeli e anche includere alcuni commenti dei padri della Chiesa che vengono riportati in questo libro. Che dite? Va bene? Spero che sia una sorta di banchetto nutriso da diversi periodi della storia. Ci aiuterà a vedere delle connessioni tra l'Antico e il Nuovo Testamento e mostrerà come la buona notizia di Gesù diventa ancora più avvincente quando contempliamo i profeti che l'hanno prevista e dei teologi che l'hanno studiata. Ok? Tre brani che hanno toccato milioni di vite. Eccoli qua sulla slide. Sono Preparate la via del Signore. Lo Spirito del Signore è sopra di me. E erano le nostre malattie che li portava. Ok? Questi tre brani. Ecco il primo brano. Il Vangelo di Matteo presenta l'uomo che preparò il popolo per l'arrivo di Gesù, cioè Giovanni Battista, in questo modo qua. Leggo questo pezzo qua del Vangelo di Matteo. In quei giorni venne Giovanni il Battista che predicava nel deserto della Giudea e diceva ravedetevi perché il regno dei cieli è vicino. Di lui parlò infatti il profeta Isaia quando disse voce di uno che grida nel deserto preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Prima dell'arrivo di Gesù ci fu Giovanni Battista che aveva un ruolo preparatorio per l'arrivo di Gesù. chiamò il popolo a cambiare direzione, a rinnovare il modo di pensare, a ravedersi e aprirsi a quello che stava per arrivare. E l'immagine che usò per farlo è quella di preparare la via del Signore. È un'immagine regale dell'epoca perché quando un re o imperatore o autorità visitava una città si preparava la strada per il suo arrivo. Si coprivano le buche, si raddrizzavano le strade, forse si metteva qualche fiore. Io sono cresciuto in un quartiere dove si trova un autodromo della Formula 1, quello di Interragos in Brasile. E ogni anno, prima della corsa di Formula 1, le autorità preparavano la via per l'arrivo dei piloti e dei turisti. Cioè diventava tutto un po' più bello e ordinato. Un po' come Roma si sta preparando per l'arrivo di tanti visitatori a ora che arriverà il giubileo il prossimo anno. La città sta preparando le vie per il loro arrivo. Giovanni Battista dice preparate la via del Signore. Raversate i suoi sentieri. Cioè il Signore stava per arrivare, non un visitatore qualsiasi. E Matteo sottolinea che quella era una profezia di Isaia. Un messaggio che era stato anticipato otto secoli prima. È un principio importante. La Bibbia aiuta a interpretare la Bibbia. Sempre che il Nuovo Testamento cita un brano dell'Antico Testamento è una sorta di chiavi di lettura. È utile esaminare cosa quel brano dice nel suo contesto originale perché questo chiarisce e arricchisce ciò che poi viene citato. Quindi leggiamo questo brano qua nel profeta di Isaia nel suo contesto originale. leggiamo qua siamo al capitolo 40. Lui scrive consolate consolate il mio popolo dice il vostro Dio parlate al cuore di Gerusalemme e proclamatele che il tempo della sua schiavitù è compiuto. Il debito della sua iniquità è pagato che essa ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati. la voce di uno grida preparate nel deserto la via del Signore appianate nei luoghi aridi una strada per il nostro Dio. Ogni valle si è colmata e ogni monte e ogni colle siano abbassati i luoghi scoscesi siano rivelati i luoghi accidentati diventano pianeggianti. Allora la gloria del Signore sarà rivelata e tutti allo stesso tempo la vedranno perché la bocca del Signore la deve non è interessante ci fa capire meglio il messaggio di Giovanni Battista fa riferimento ad una profonda consolazione del popolo ad un momento in cui Dio avrebbe parlato al cuore di Gerusalemme preparate la via del Signore è il messaggio perché? perché la gloria del Signore sarà rivelata perché la bocca del Signore parlerà il tempo della schiavitù sarà confiuto il debito dell'iniquità sarà pagato è quello che fece Gesù ci liberò dalla schiavitù ai nostri vizi e peccati parla ai nostri cuori consola i nostri spiriti quindi noi prepariamo la via del Signore prepariamo una strada per il nostro Dio è utile capire il contesto da cui proviene un brano non è vero? ora voglio mostrarvi anche l'altro lato perché è altrettanto utile contemplare ciò che persone che sono venute dopo Gesù hanno scritto riguardo questi brani ok? per esempio cito uno chiamato Origine che fu un teologo del terzo secolo che vise ad Alessandria ok? era un cervellone questo Origine leggiamo qua il Signore il Signore vuole trovare in voi una strada attraverso la quale possa entrare nelle vostre anime e compiere il suo viaggio preparate per lui la strada di cui si dice radversate il suo cammino ora la via del Signore è resa dritta in due modi dalla contemplazione che è chiarita dalla verità non mescolata dalla falsità della contemplazione e dall'attività che segue la sana contemplazione dell'azione appropriata da intraprendere lui sta parlando della strada del nostro cuore dobbiamo rimuovere gli ostacoli e renderla dritta per preparare per l'arrivo del Re nei nostri cuori cioè distrazioni fuori paure calmatevi ora il Re dell'Universo sta per arrivare quindi io mi calmo mi preparo mi apro e dico vieni Gesù sono pronto sia nella contemplazione sia nella vita attiva di tutti i giorni vogliamo rendere dritta la via del Signore nei nostri cuori aggiungo anche un altro teologo qua uno si chiama Giovanni Cassiano fondatore di vari monasteri nel quarto e quinto secolo lui scrive qua secondo il chiaro insegnamento del Signore la strada del Re è facile e scorrevole anche se può essere percepita come dura e accidentata per coloro che lo servono piamente e fedelmente quando hanno preso su di sé il gioco del Signore e hanno imparato da Lui che è umile e mite di cuore subito essi in un modo o nell'altro mettono da parte il peso delle passioni terrene e non trovano altro che riposo per le loro anime per il dono del Signore sta dicendo che quando prepariamo la strada dei nostri cuori all'inizio sempre una impresa dura e accidentata mettiamo da parte delle passioni terrene confessiamo a Dio la nostra lontananza ma in fine conti prima o poi per coloro che hanno imparato che il Signore è umile e mente di cuore la strada del Re è facile e scorrevole è un piacere è bellissimo è una gioia è la più grande gioia che possiamo avere non troviamo altro che riposo per le nostre anime non riceviamo altro che un dono dal Signore prepariamo i nostri cuori e riceviamo orecchie mite e umile di cuore quindi ecco una proposta facciamo questo ora prendiamo un minutino per farlo prima di passare al prossimo punto ti invito a chiudere gli occhi se vuoi raddrizzare la schiena fare un bel respiro e preparare la via del tuo cuore consegna a Gesù ciò che ti preoccupa smaschera le voci e le bugie che ti allontanano da Cristo se un pensiero o distrazione ti porta verso qualche tangente non c'è problema accade lascialo andare e riporta la mente qui davanti a Gesù e invitalo ad entrare farlo arrivare su un'altra strada vieni vieni Signore Gesù entra in noi noi prepariamo i nostri cuori per l'arrivo del nostro re è qualcosa di semplice ma cambia tutto non è vero? i nostri cuori già sembrano diversi anche ciò che ci circonda no? preparate la via del Signore lo dice Isaia e Giovanni Battista per parlare dell'arrivo di Gesù ecco il secondo brano bellissimo di Isaia che vorrei citare qua lo Spirito del Signore è sopra di me ok? questa volta Gesù stesso cita Isaia per parlare di sé questo accade quando Gesù si recca a Nazareth la città dove era cresciuto e va in sinagoga e legge questo brano qui del profeta Isaia quindi leggiamo questo brano qua ok? qui ci troviamo in Luca capitolo 4 Gesù si recò a Nazareth dove era stato elevato e come era solito entrò in giorno di sabato nella sinagoga alzatosi per leggere gli ho dato il libro del profeta Isaia aperto il libro trovò quel passo dove era scritto lo Spirito del Signore è sopra di me perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri mi ha mandato per annunciare la liberazione ai prigionieri il recupero della vista ai ciechi per rimettere in libertà gli oppressi per proclamare l'anno accettevole del Signore poi chiuse il libro e resolo all'inserviente si mise a sedere e gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi su di lui e li prese a dir loro oggi si è dempiuta questa scrittura che voi udite tutti gli rendevano testimonianza e si meravigliavano delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano non è costui il figlio di Giuseppe? vi mostro alcune foto oggi non ci sono rovine rimanenti della sinagoga di Nazareth dell'epoca non ci sono però se tu visiti Nazareth oggi c'è un posto chiamato Nazareth Village che riproduce varie cose dell'epoca noi ci siamo stati nel 2019 per esempio ci sono case come questa in cui si vede come le persone vivevano all'epoca e in cui si mostra il mestiere di Giuseppe e di Gesù come falegnami e muratori ecco qua un'altra slide in cui vediamo un pastore insieme al suo greggio e ai miei figli 5 anni fa più piccolini c'erano anche vigne olive e poi l'altra slide un macchinario che veniva usato per schiacciare le olive e produrre l'olio Sara dimostra come funziona con tanta maestria e devo dire anche con tanta eleganza e bellezza devo dire ecco guarda qua brava ha fatto eccellente lavoro qui si mettevano le olive lì vengono schiacciate e poi esce fuori l'olio e poi ecco anche una foto prima di tornare qua ecco la sinagoga qui che hanno fatto una sorta di riproduzione come erano le sinagoga dell'epoca ci si poteva sedere lungo le mura e al centro c'era un pulpito di pietra su cui si poggiavano le pergamene che venivano lette sono andato lì e si era scattato con una foto io sapeva per aprire il rotolo del profeta Isaia e per dire che lo spirito del Signore era sopra di me però io fui interrotto forse proprio del Signore che è la slide successiva perché si presentò un uomo lì guarda assomigliava a Gesù guardate la foto zoomata non che la donna accanto a lui ci poteva credere a lui lì con noi indossava una maglietta con una papera e mi guardava come per dire non ci posso credere che tu hai provato a leggere le profete Isaia e dire che lo spirito del Signore è sopra di te no questa è la mia profezia capito scherzo a parte si è presentato lì era quello scherzo a parte queste immagini ci aiutano a immaginare il momento quando Gesù si recò a Nazareth andò alla sinagoga e gli fu data l'opportunità di parlare tra tutti i brani che poteva leggere in quell'occasione scelse questo brano qua del profeta Isaia che parla della sua missione di evangelizzare liberare sollevare guarire e proclamare la salvezza del Signore immagina che scena dunque racconta che le persone si meravigliavano delle parole che uscivano dalla sua bocca e dicevano non è questo il figlio di Giuseppe cioè l'abbiamo visto crescere immaginiamoci lì vivi in quel paese sei seduto lungo una di quelle mura lì e Gesù apre il rotto del profeta Isaia e legge questo leggo qua lo spirito del Signore di Dio è su di me perché il Signore mi ha unto per reccare una buona notizia agli umili mi ha inviato per fasciare quelli che nel cuore è spezzato per proclamare la libertà a quelli che sono schiavi l'apertura del carcere ai prigionieri per proclamare l'anno di grazia del Signore il giorno di vendetta di giustizia del nostro Dio per consolare tutti quelli che sono afflitti permettere per dare agli afflitti di Sion un diadema invece di cenere olio di gioia invece di dolore un mantello di lode invece di uno spirito abbattuto affinché siano chiamati querce di giustizia la piantagione del Signore per mostrare la sua gloria che scena eh oh io vorrei tanto essere stato lì ascoltare da Gesù stesso la proclamazione dell'anno di grazia del Signore la consolazione degli afflitti l'annuncio della buona notizia agli umili che sono aperti per riceverla la libertà a quelli che sono schiavi offrire Gesù stesso offrire un mantello di lode invece di uno spirito abbattuto olio di gioia invece di dolore una corona invece di cenere ricevi questa buona notizia è per te per me per noi consolazione liberazione un'unzione di gioia e un mantello di lode grazie a Gesù gli umili riconoscono che lo spirito del Signore era sopra Gesù e ricevono la buona notizia del Vangelo e io vorrei ho sentito mi sono sentito di guidarvi in un momento di meditazione anche qua per ricevere questo brano nei nostri cuori va bene non basta ascoltare la parola la dobbiamo portare qui dentro abbiamo preparato i nostri cuori ora puoi chiudere gli occhi di nuovo e immaginarti lì in quel momento lì sei arrivato alla sinagoga ti sei seduto Gesù si presenta e si alza aper il rotolo del profeta Isaia e legge questo brano io lo rileggerò lentamente e ti invito a focalizzare la parte che più parla a te e fermarti lì dimorare lì lo spirito del Signore di Dio è su di me perché il Signore mi ha aiuto per reccare una buona notizia agli umili mi ha inviato per fasciare quelli che nel cuore è spezzato per proclamare la libertà a quelli che sono schiavi l'apertura del carcere ai prigionieri per proclamare l'anno di grazia del Signore il giorno di vendetta del nostro Dio per consolare tutti quelli che sono afflitti per mettere per dare agli afflitti di Sion una corona invece di cenere olio di gioia invece di dolore il montello di lode invece di uno spirito abbattuto affinché siano chiamati querci di giustizia la piantagione del Signore per mostrare la sua gloria ora ti invito a pregare la frase o immagine che hai scelto riportala a Dio grazie Gesù noi afferriamo la buona notizia del tuo Vangelo noi portiamo il tuo annuncio nel profondo dei nostri cuori il padre della chiesa che vorrei citare qua è un teologo del settimo secolo che visse nell'ex capitale dell'impero Assiro che si chiama Isacco di Ninive non lo conoscevo Isacco di Ninive lui scrive una cosa bellissima ecco qua non cadete nella disperazione a causa dell'incianto non voglio dire che non dobbiate provare contrizioni per i vostri peccati questo sì ma che non dobbiate ritenerli incurabili c'è infatti un guaritore per chi è inciampato anche colui che sulla croce ha chiesto di avere pietà dei suoi crocifissori colui che ha perdonato il suo assassino mentre era appeso sulla croce Cristo è venuto Cristo è venuto in favore dei peccatori per guarire gli affranti e fasciare le loro ferite lo spirito del Signore dice è su di me per annunciare la buona notizia ai poveri e l'Apostolo dice nella sua epistola Gesù Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori Amen non dobbiamo cadere nell'inciampo a causa della disperazione cioè dobbiamo provare contrizioni per i nostri errori e limitazioni e peccati certamente ma non sono incurabili c'è un guaritore per chi è inciampato Gesù è venuto per guarire gli affranti e fasciare le loro ferite preparate la via del Signore era il primo il primo brano il secondo lo spirito del Signore è sopra di me ecco qua il terzo brano di Isaia che vorrei focalizzare dice erano le nostre malattie che gli portava ok erano le nostre malattie che gli portava si trova nel capitolo 53 di Isaia che diventò un capitolo chiave per come i cristiani compresero il sacrificio di Gesù per noi uno dei brani del Nuovo Testamento che lo cita viene citato in varie volte è questo qua siamo qui nel Vangelo di Matteo ok capitolo 7 poi Gesù entrato nella casa di Pietro vide che la suocera di lui era a letto con la febbre ed egli le toccò la mano e la febbre la lasciò ella si alzò e si mise a servirlo poi venuta la sera li presentarono molti indemoniati ed egli con la parola scacciò gli spiriti e guarito di malati affinché si adempisse quello che fu detto per bocca del profeta Isaia egli ha preso le nostre infermità e ha portato le nostre malattie Matteo racconta la storia di una guarigione memorabile e quella della suocera di Pietro e quando racconta che Gesù schiacciò gli spiriti e guarì tanti malati e infatizza che la sua opera adempiva questa profezia di Isaia egli ha portato le nostre malattie e lo fece prendendo su di sé le nostre infermità è la bellissima verità del sacrificio propiziatorio di Gesù cioè Gesù prese il nostro posto sulla croce subì il castigo per i nostri peccati si offrì come un uomo innocente che venne ucciso al posto dei colpevoli affinché possiamo essere perdonati e rigenerati bello no? ecco come Isaia descrive questo meraviglioso scambio qua leggo erano le nostre malattie che li portava erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato ma noi lo ritenevamo colpito percorso da Dio e umiliato ed è stato traffitto a causa delle nostre trasgressioni stroncato a causa delle nostre iniquità il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti che verità straordinaria il nostro castigo è caduto su Gesù e li portava le nostre malattie Gesù fu traffitto a causa delle nostre trasgressioni perché affinché possiamo avere pace affinché siamo guariti mediante le sue lividure e qui il teologo che vorrei leggere descrive questo meraviglioso scambio così lui scrive e li portò la somma dei peccati umani e ogni forma di trasgressione nonché la loro ricompensa e punizione è come se fosse il nostro debitore l'unigenito verbo di Dio venendo nel mondo accanto a noi adempì ogni legge e ogni giustizia e non inciampò nel peccato ma lo accolse volentieri per cambiare la nostra pena in pace e armonia per cambiare la nostra pena in pace e armonia domanda quale peccato ti appesantisce di quale colpa devi essere sollevato in quale modo cerchi guarigione dell'anima vai da Gesù confessa il tuo peccato a Gesù poggi il tuo peso ai piedi di Gesù apri la via del tuo cuore a Gesù Gesù è mite è buono è pieno di grazia quando ci accorgiamo che ci può essere salvezza abbiamo il coraggio di ammettere il nostro peccato prima lo vogliamo negare non esiste non lo vedo non parlarmi ma quando afferiamo la bontà di Gesù quando vediamo quegli occhi di amore che brillano per noi lo possiamo riconoscere lo possiamo confessare possiamo lasciare andare le cose più pesanti che ci appesantiscono e ricevere qualcosa di straordinario una pace indescrivibile una leggerezza bellissima una liberazione d'anima Gesù si prende il nostro carico e ci dà la sua pace è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni e ci guarisce mediante le sue dividere quindi ci invito a fare un terzo momento di meditazione ora per prepararci per la cena del Signore e concludere il sermone ora celebreremo fra poco il sacrificio di Gesù per noi attraverso il pane e il vino la croce ci ricorda che siamo più peccatori di quanto pensavamo perché Gesù ha dovuto morire per noi ma la croce ci ricorda anche che siamo più amati di quanto pensavamo perché Gesù è stato felice di dare la sua vita per noi quindi immaginiamoci ora ai piedi di Gesù immaginiamoci lì ai piedi della croce cosa vedi ora concentrati su cosa senti in questo momento cosa hai dentro da far vedere a Gesù chiedi il suo perdono e grazie ora ringrazio per la sua salvezza ora noi abbiamo l'opportunità di rispondere con gli elementi della tavola del Signore il pane simbolizza il corpo che Gesù offrì per noi sulla croce il vino simbolizza il sangue che Gesù versò per noi lì sulla croce grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.